Questo incrocio tra un pastore e un labrador di quasi sette anni si chiama Lulù. È un sostegno insostituibile per Alessandra, costretta su una sedia a rotelle dopo un incidente d'auto. È uno dei tanti cani d'accompagnamento per disabili a cui è dedicata una nuova legge regionale proposta dal consigliere Sandro Mandini. L'obiettivo è equipararli ai cani guida per ciechi, riconoscendoli ufficialmente e permettendo una reale integrazione sociale per i portatori di handicap. Le mie uscite di casa saranno agevolate. Quando prima entravo in un negozio e mi dicevano il cane sta fuori o diversamente in un albergo o qualsiasi posto ricevevo dei no, ora ho una legge che mi aiuta e posso entrare. La legge vuole riconoscere e valorizzare anche il lavoro di tutti quegli istruttori qualificati che spendono le proprie competenze al servizio dei disabili. Per preparare e formare un cane d'assistenza per persone disabili, poi dipende naturalmente anche dal grado di disabilità, ci vogliono circa due anni di lavoro per ottenere un lavoro completo. In Italia le esperienze come quelle che facciamo noi a Chiaramilla sono sul binomio, quindi si lavora sulla persona disabile con il cucciolo fino a quando il cucciolo è molto piccolo, si fa un affidamento quando il cane ha circa quattro mesi e poi si lavora col binomio fino al compimento dei due anni della vita del cane. E questo è solo il primo passo. L'Emilia Romagna fa da apripista nel riconoscimento dei cani di accompagnamento da disabili e spera di essere un esempio anche per Roma. Ci auguriamo che venga ripresa non solo da altre regioni ma che si ponga un tema a livello di Parlamento nazionale che si provveda con una legge specifica che valga per tutto il territorio italiano. Noi siamo appunto una apripista con la speranza che la sensibilità di altri soggetti raccolgono queste istanze e le portano a conclusione.